ebbene carissimi amici benvenuti e ben ritrovati ancora una volta sul mio canale youtube quest'oggi parliamo ancora di grandi vincite e parliamo di bellissimi esiti ottenuti dai miei software ennesimo terno secco vinto dei miei programmi a ruota secca la spia 8 fa il botto uno dei primissimi miei programmi presentati da anni da oggi ancora questi risultati quando dico che i miei programmi sono validi e durevoli a vita non hanno bisogno di aggiornamenti li prendete una volta ed effettuate realizzate queste vincite perché la spia 8 è stato uno dei primissimi soft presentati poco poco a quattro anni quindi attenzione ogni volta che la spia 8 esce su qualsiasi ruota il programma elabora un estratto quindi previsione già pronta ricopiare e giocare quattro ambi secchi la particolarità di questo software che gioca anche il lunghetto qui vedete gioco alternativo per chi vuole unire e quindi tentare anche le sorti superiori quindi dalla quaterna in su 14 secco vinto a napoli undicesimo colpo parliamo dell'estrazione di sabato 25 settembre vinto anche in posizione perché io vi do la quarta e la posizione di questo estratto queste vincite neanche le considero perché ne arrivano a balanga ambate gli strati determinati ne arrivano a balanga neanche li vado a considerare però chi gioca questa sorte per esempio anche l'estratto determinato e ha i miei programmi in mano può constatare quanto questi estratti siano potenti e diventano degli ottimi capigiori perché poi andiamo a beccare lambo secco sulla ruota di napoli 14 17 che cosa succede che si abbina il 19 e ne esce fuori un fantastico terno secco 14 17 19 sulla ruota di napoli estrazione del 25 settembre 2021 bellissimo terno secco l'ennesimo quanti video andate a vedere quanti video ho fatto di termi quando parliamo di ambate non parliamo di ambetti nei miei software lambetto non esiste non esiste perché lambetto è stato istituito dopo ok se lambetto oggi non esistesse quelle vinci non ci sarebbero la lottomatica l'ha inserito ma il gioco dell'hotesto sempre strappo ambo terno quaterna cinquina quindi prima non esisteva è stato inserito dopo quindi io preferisco vincere in maniera secca quindi il lambo l'estratto terminato lambo o il terno quindi i miei software non giocano ambetti poi chi vuole puntare la sorte di ambetto lo può anche fare mettendo qualcosa in più chiaramente visto che è una nuova sorte quando va a sortire qualcosa si porta a casa quindi non disdegno insomma chi vuole che molti mi hanno chiesto se si può giocare lambetto si può giocare non lo prevedo nei miei programmi però si può diciamo anche puntare certo quella puntata c'è una spesa in più da fare io preferisco diciamo commentare quelle che sono le vincite secche e quelle che poi sono le sorti con cui è nato il gioco dell'hot quindi estratto ambo eterno quindi da anni è nato in questa maniera e quindi andiamo a beccare un bellissimo terno secco sulla ruota di napoli esiti reali documentati si sa da dove viene la previsione vi faccio vedere nero su bianco da dove viene la previsione da dove proviene dove era scritta qual è la condizione e qual è stata la vincita questa è la previsione questa la vincita e quindi cari amici non li perdete i miei software perché sono qualcosa di veramente eccezionale sono qualcosa di veramente eccezionale vi danno delle possibilità enormi vi danno delle previsioni da poter giocare veramente interessanti sono degli strumenti molto forti continua ad insistere sulla scia di questo ultimo terno secco vinto a napoli dalla spia 8 ha senso anche avere l'intero pacchetto di tutti i miei 19 software disponibili al momento perché potrete valutare convergenze per esempio se la spia 8 di porter 14 è spia mestosa di porter 14 e che ne so super spia 10 vi porti il 14 vuol dire e vi va a convergere per esempio napoli vuol dire che è molto probabile che quel 14 esca quindi in questo senso va usato l'intero pacchetto non certo per giocare tutti tutte le previsioni dei software sarebbe una follia quindi o scegliete uno due tre software o uno e seguite quelle previsioni oppure il pacchetto è molto interessante in questo senso ancora di più se diversi software portano lo stesso ambo lì diventa ancora più interessante è successo un sacco di volte che diversi software portassero lo stesso ambo ed è stato proprio quell'ambo ad uscire su vuoto quindi io vi consiglio in grande promozione dell'acquisizione dell'intero pacchetto dei miei software disponibili al momento necessitano tutti i programmi di un codice di attivazione per essere attivati una volta che li prendete sono vostri il prodotto è vostro è sempre valido e avrete in mano non giocherete a casaccio ma avrete in mano delle previsioni fortissime per andare a vincere al gioco dell'otto questo è stato l'ultimo ternosecco vinto in ordine di tempo spiaotto felbotto ternosecco 14 17 19 sulla ruota di napoli vi lascio in descrizione i miei riferimenti per contattarmi e avere informazioni su come accedere ai miei software o via whatsapp come sempre 348 75 47 715 per adesso un saluto a tutti e a tutti i miei servizi a inserire ai miei servizi a inserire ai miei servizi al momento